Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi commenterò una partita che si è giocata dal Tata Steel Chess Master, uno dei tornei più forti di scacchi che si è svolgendo proprio in questo momento. Giocano infatti i giocatori del calibro di Carlsen, Caruana, ma anche Grandelius e Rapport, che sono proprio i giocatori che sono sfidati in questa partita che vedremo tra pochissimo. Ma prima di cominciare vi chiedo se l'audio è migliore perché ho comprato un nuovo microfono, è questo qui, quindi vi chiedo se si sente meglio. L'obiettivo è quello di cercare di migliorare la qualità di questo canale YouTube sempre di più, quindi magari devo un po' modificare qualche impostazione, fatemi un po' sapere nei commenti se si sente meglio. E ovviamente iscrivetevi al canale YouTube, cosicché mi aiutiate a crescere sempre di più con questo progetto. Vi lascio qui sotto il banner di riscriversi e ovviamente cliccate nella campanella per attivare le notifiche. Cominciamo subito. Allora, Grandelius è il bianco, Rapport ha il nero, ho poi un aneddoto su Grandelius, magari a metà video ve lo racconto. E4, C5, cavallo F3, E6, difesa siciliana, D4, C per D, cavallo per D4, ok, siciliana aperta. E Grapport sceglie la variante Taimanov, la variante poco giocata in realtà tra tutte le varianti della siciliana, probabilmente E6 è la linea meno giocata. D6 e cavallo C6 sono quelle più giocate, ma assolutamente buona, molto solida. E qui Grandelius gioca G4, ci mostra il suo stile prettamente aggressivo, G4 è una bellissima mossa che mette subito in chiaro le cose, qui il bianco vuole attaccare. Vi faccio vedere, ma proprio super velocemente, per vostra conoscenza, le linee più tranquille o meglio. C'è un'altra linea aggressiva con alfiere E3, per esempio A6, donna D2, cavallo F6, arrocco lungo, si rientrebbe in una specie di attacco inglese. Una linea che comunque avete avuto modo di vedere in questo canale, perché lo gioco anch'io da bianco. Alfiere E2 invece è la linea probabilmente più tranquilla, con l'obiettivo di arroccare corto, e poi sviluppare alfiere E3. Quindi se volete a bianco, se volete evitare le linee super aggressive, vi consiglio di fare alfiere E2, alfiere E3 e arrocco corto. Ma qui divertiamoci, divertiamoci con G4, che ci regala Nils Grandelius, questo grande maestro che a soli 17 anni ha superato il 2500, ottenendo quindi il titolo di GM, cavallo F6, F3, A6, donna D2. Il piano è simile a quello dell'attacco inglese, perché come vedete la configurazione dei pedoni mira ad attaccare l'arrocco corto, che poi ancora non si è fatto, ed è chiaro che il bianco arroccherà a lungo. Cavallo in E5, l'obiettivo è quello di portare questo cavallo in C4, perché in questa linea l'alfiere in E3 è un pezzo fondamentale, per il nero. Perché? Perché avendo mosso i pedoni in casa bianca, questo significa che le case nere sono delle case deboli. Casa deboli è una casa che non è difesa da nessun pedone, e quindi se viene eliminato questo alfiere, questo alfiere in E3, queste case sarebbero soggette ad attacchi. Quindi per questo è fondamentale per il bianco mantenere l'alfiere in E3. F4, cavallo in C4, ecco perché qui il bianco cede l'alfiere campo chiaro. Non vuole in alcun modo cedere l'alfiere in E3 e quindi cambia l'alfiere campo chiaro per il cavallo. È una manovra veramente molto molto comune in questa linea della siciliana. E5, cavallo per G4, si cede un pedone, torre in G1, cavallo per E3, donna per E3. I gambetti, i sacrifici, sono all'ordine del giorno, perché comunque è una linea super aggressiva, e quindi qui il fatto che il bianco compri in meno vuol dire poco, perché l'attacco e l'iniziativa sono assolutamente a favore del bianco. b5, il neo cerca di reagire a rocco lungo, donna per l'alfiere b7, re in b1. Re b1 è una mossa che viene giocata spesso quando si fa la rocco lungo, è una mossa difensiva. Qual è il motivo? Il motivo è che in questo modo il re può difendere tutti e tre pedoni. Ed è fondamentale, quindi io ve lo consiglio, se un giorno volete a roccare lungo, in una vostra partita, vi consiglio di pensare sempre alla mossa re b1. Per esempio in questo caso il croll in c3 era bloccato perché doveva stare a difesa del primo a due, se no la regina lo catturava. Ma può capitare anche in altre occasioni, per esempio quando la regina arriva in a 5 e attacca a 2, quindi re b1, se potete, fatela sempre. Ok, a rocco lungo. Qui è interessante, potrebbe essere b4, con idea a cavallo a4, donna c7, e poi portare la torre in c8 e creare questo attacco sulla casa c2. Potrebbe essere una linea interessante per Richard Rapport, che poi dice di arroccare lungo. Molto strano, molto strano perché vedete che il re non ha pedoni davanti, c'è la colonna c aperta e i pedoni già sono rimossi in a6b5, quindi arroccare lungo è veramente strano in questa posizione. Però se ci pensiamo un attimo, guardate qui, arroccare corto è impensabile. Con la torre in g1, la regina che minaccia indirettamente h6, in un attimo f5, e la minaccia in h6 sarebbe lampante. Il cavallo che può saltare in e4 e può arrivare in g5 e in f6. L'altro cavallo pure che può arrivare in f5. Dunque, effettivamente arroccare corto era da suicidio. Quindi qui bisognava un po' decidere. O rimanere con il re al centro, e si può fare, non è ovviamente obbligatorio arroccare sempre, o arroccare lungo. Rapporto ha scelto di arroccare lungo. E allora vediamo com'è andata la partita. Cavallo in e4. Il cavallo si posiziona verso il centro, minaccia la casa di avamposto d6, un avamposto molto temibile per il nero. Addirittura è un avamposto che da pure scacco, ma comunque in stessa traversa. Re in b8, torre in d3. Torre d3 perché? Perché la torre vuole spostarsi in c3, in modo tale da difendere la casa c2 e dare fastidio alla regione c4. Torre in c8, torre in d1, giustamente si raddoppia con le torri. E qui il nero giro al fine 7, ma potrebbe essere molto interessante b4, con l'obiettivo di evitare torre c3. Perché è una mossa veramente ottima per il bianco, difensiva, ma allo stesso tempo anche offensiva. E infatti su al fine 7, Grandelius gioca subito torre c3. Donna 4, torre d3, ritorna. Probabilmente una proposta di parta implicita. Quindi in che senso? Che su donna c4 avrebbe rigiocato nuovamente torre c3. E qui al fine per e4, invece gioca rapport, cambia l'alfiere per il cavallo. Ok, b3 è una semplice mossa intermedia. E poi si riprende l'alfiere. Frendiamoci un attimo qui. Posizione complessa. Comunque non semplice. Perché è vero che ti stiamo avvicinando al finale. Però è una posizione comunque molto strana. In cui la colonna d è conquistata dal bianco che minaccia in maniera molto minacciosa, se ho detto in gioco di parole, il primo è di 7. Però è la colonna d. Però la colonna c è conquistata dal nero. E quindi anche questa potrebbe essere una minaccia. Notiamo inoltre, qual è un altro elemento, volevo togliere le frecce, ok, un altro elemento di vantaggio per il bianco sono le case nere, per il nero scusate, un vantaggio per il nero sono le case deboli nere del bianco. Ovvero a3, b2, c3. E quindi una minaccia abbastanza ovvia potrebbe essere in futuro alfieri in a3, donna c3 e il semplice matto. Quindi questo sempre, quando muovete il pedone b nell'arocco lungo o g nell'arocco corto che è più comune, state attenti a questo matto perché è veramente molto molto frequente. E quindi sono questi i piani e i driver, potremmo dire, rispettivi dei differenti colori. Quindi il bianco cerca di sfruttare il re nero esposto e la colonna d, il nero cerca di sfruttare le case nere e deboli e la colonna c. Vi racconto, siamo giunti un po' alla metà del video, vi racconto un aneddoto. Io, Grandelius, ho avuto l'opportunità di conoscerlo, ma lui non si ricorderà sicuramente di me, anche perché sono passati moltissimi anni, nell'europeo under 16, giocato a Pozzo d'Angiorgio, quindi in Italia, e sono l'unico europeo che ho giocato. Io ero nell'under 14, lui nell'under 16, perché ci togliamo due anni a solo, è del 93, lui ha solo due anni in più di me, e mi è rimasto impresso, a parte che per il rasta era molto particolare, ma non tanto per questo, ma perché aveva solo due anni in più di me, ma lui era 2500, e io un semplicissimo 1900. Quindi, cioè, è rimasto tipo 2500 il tuo elo, oh mio Dio! Quindi già a 16 anni si era capito che sarebbe diventato veramente un fenomeno, anzi lo era già. Infatti mi ricordo che fino all'ultimo era in lizza per vincere l'europeo, che però alla fine, se non ricordo male, non è riuscito a vincere. Quindi ho avuto l'opportunità di conoscerlo e scambiare qualche parola con questo fortissimo e grande maestro. Continuiamo, e qui il nero gioca a Torre in C7. Torre in C7, qual è l'obiettivo ovviamente? Raddoppiare la colonna C e quindi sfruttare questo elemento del medio gioco, ovvero la colonna aperta, sul penone in C2. F5, il bianco cerca di creare un po' di fastidio qui nella sottoprimonale del nero, inoltre sul cambio, mangiando, catturando di cavallo, ovviamente sarebbe una forte minaccia a questo cavallo, sia per l'alfiere, sia per l'amposto di C6, sia per il penone in C7. Quindi il nero non cattura, fa Torre in C8. Torre in G3 si attacca il penone in G6. Notate come F5 è utile anche per evitare G6, perché qui su Torre in G3 semplicemente è G6 e il nero sarebbe difeso, quindi molto utile F5. Alfiere in A3 segue il concetto detto in precedenza, bisogna sfruttare le case deboli. H4, donna B4. Qui in realtà potrebbe essere interessante anche E per F5, con idea che su donna per F5 Torre C3 si minaccia, o meglio, non si può catturare la Torre, perché se no si minaccia donna per C3 e il matto. Quindi questa torre in C3 effettivamente potrebbe essere fastidiosa per il bianco. Quindi E per F5 potrebbe essere interessante, invece donna B4 gioca Rapport, con l'obiettivo di inchiodare questo cavallo in D4, non ci sono attacchi di scoperta perché la regina è difesa dall'alfiere. F5, Torre in C3, se l'ho giocata ora, Torre per G7. Torre per G7 non è proprio corretta. Guardate la differenza tra questa posizione e questa posizione. Peone per, peone per, Torre per G7. In questo caso la Torre attacca il peone di D7 e sarebbe stato fondamentale per il bianco, per capovolgere la partita. Infatti qui il nero deve trovare un modo per difendersi. Dopo Torre per G7 qui il matto arriva in un attimo e non può continuare il suo attacco. Ora torniamo alla partita. Per esempio, cioè su Torre H3, magari attaccando H5 e minacciando qualcosa che vedremo più tardi, il bianco potrebbe rispondere a Torre per G7 e matto imparabile. E allora Torre per G7 è il primo vero grande errore di Grandelius. Non si è accorto che qui Torre H3 è formidabile. Ora vedremo il motivo. Donne 1 gioca il bianco, probabilmente perché vorrebbe cambiare le regine, ma qui Rapport gioca una mossa spettacolare, una mossa incredibile. Se volete provare a cimentarvi, però vi anticipo che non è affatto semplice, magari mettete pausa e provate a vedere questa mossa, è un ottimo esercizio tattico, ma è una mossa che è dell'incredibile. Qui Rapport gioca Torre H1, bellissima. Guardate qui, la Torre è impresa e quindi potrebbe essere catturata dalla regina, ma allo stesso tempo anche la regina è impresa. E quindi diventa incredibile come in una mossa sono due pezzi impresa, ok, la regina è vero che è difesa, ma su regina per alfiere per poi si perderebbe la torre, quindi due pezzi impresa, eppure la partita qui è vinta, finita. Rapport gioca Torre H1, Grandelius capisce immediatamente che ha perso. Perché ha perso? Allora capiamolo. Su regina per regina, c'è torre per torre, scacco matto. bellissimo matto con l'alfiere controlla le case nere e il re non può scappare. Su regina per H1, c'è regina C3 e di nuovo il matto che vi spievo prima, sfruttando il fatto che le case deboli nere sono un punto critico per il bianco, sono impossibili da difendere, quindi matto imparabile. E allora cosa fa Grandelius? Giocatore G1, giocatore G1 ma non cambia nulla, torre per torre gioca Rapport, nuovamente torre impresa e regina impresa. A questo punto Grandelius ovviamente potrebbe anche abbandonare, ma probabilmente in modo tale da dare anche l'opportunità per incorniciare la partita per Rapport, per fare complimenti a Rapport, gli dà l'opportunità di giocare donna C3 e quindi dimostrare il matto imparabile sulla scacchiera. E qui Grandelius abbandona. Bellissima combinazione, che dimostra come la tattica risulta fondamentale a qualsiasi livello. In qualsiasi livello, voi vi trovate, la tattica può cambiare in un attimo la partita. È una partita abbastanza pari, eravamo in questa posizione, qui vediamo cosa dice il motore, dà 0.5, non è un grandissimo vantaggio, dà 0.5 per il nero, quindi leggerissimo vantaggio per il nero, ma possiamo dire che è pari, è completamente cambiata, perché torre 27, torre H3, netto vantaggio nero. Incredibile. Ecco perché dovete, se volete migliorare a scacchi, allenarvi nella tattica. È fondamentale, perché in un attimo la partita cambia. Se trovate la combinazione tattica al momento giusto, vincete un sacco di partite. E questa partita ce lo dimostra, quindi ringraziamo Rapport per questa bellissima perla che ci ha regalato. E allora lasciate un like se vi piaciuto il video, fatemi sapere nei commenti che pensate, e vi lascio qui dei video in sua impressione. Ci vediamo alla prossima. Ciao!